Il programma della 24esima giornata di eccellenza Gerone B dice che è turno e frasettimanale, si gioca il mercoledì la splendida giornata che fa da cornice al derby tra la Chiantigiana e il Mazzola Valdarbia che approccia molto bene alla partita ma per pochissimo già al terzo la Chiantigiana rischia di farsi autorete, sul retro passaggio il portiere la tocca con una mano, non viene neanche ammonita nell'occasione l'estremo difensore Signorini la punizione da dentro l'area di rigore di seconda viene calciata così da Cruciani trovando una difensione di schiena, palla che poi viene in qualche modo allontanata dalla difesa che guadagna la rimessa dal fondo Mazzola Valdarbia ancora in avanti, il lancio di Cruciani per Mearini, velocissimo che anche la telecamera se la perde, sotto porta Cavallini non riesce ad indirizzare la palla in porta sarà un grande protagonista della sfida Cavallini nel primo tempo, poi qua ci prova Pierangeli che va all'uno contro uno ma la mira non è precisa palla che termina alta sopra la traversa, lo stesso Pierangeli, fa partire un bel contropiede, ancora lui all'uno contro uno allarga poi per il pallone che viene messo al centro dove Cavallini incredibilmente non arriva alla diviazione sotto porta ma era tutto fermo perché l'assistente aveva segnato il fuorigioco, la Chiantigiana che si vede solo sui calci piazzati qui ci prova Posarelli su punizione di Cicali, poi Mazzola Valdarbia al 33esimo, passa in vantaggio con Baroni che calcia dal limite dell'area palla che trova la deviazione di un difensore, si impenna e batte Signorini il terzo gol in campionato di Diego Baroni, Mazzola Valdarbia in vantaggio, siamo poco dopo la mezz'ora del primo tempo, vantaggio sicuramente meritato per quello che si è visto in campo con la Chiantigiana veramente quasi mai pericolosa dalle parti di Florindi, come detto solo sui calci piazzati anche questa volta non batte ribatti in area di rigore che vede poi la palla essere toccata anche con un braccio protesta che beh, ma il braccio è il suo, è solo calcio di punizione in favore dei Bianco Celesti Bianco Celesti che si riversano ancora in avanti, Bianchi rimasto in area di rigore dopo un corner calcia con il destro a giro, palla che avrebbe meritato miglior fortuna, finisce con una deviazione in calcio d'angolo e al 45esimo guardate cosa fa Landozzi dopo uno scambio con Cavallini ne salta uno, ne salta due, ne salta tre, appoggia per me Arini che con il destro incrocia sul secondo palo ed è il primo gol in maglia bianco celeste per Davide Mearini ed è il 2-0 del Mazzola Valdarbia che mette in ghiaccio la partita proprio al tramonto del primo tempo un grandissimo primo tempo quello degli ospiti nella ripresa della Chiantigiana parte subito forte calcio di punizione di Cicali deviato con la schiena da Bianchi in calcio d'angolo sul susseguente corner, ottima occasione perché prima ci prova Posarelli poi Chebet ribatte in rete ma Florindi in due tempi riesce a bloccare poi lo stesso Chebet si avventa sulla palla colpendo il portiere calcio di punizione per il Mazzola Valdarbia e giallo per l'attaccante della Chiantigiana ancora sul calcio di punizione una traiettoria che rischia di ingannare la difesa ma Florindi lascia abilmente sfilare sul fondo poi De Luca come si veste dei panni di Landozzi salta tutti entra in area di rigore appoggia per Bartolini Posarelli con il destro riesce ad anticipare e spedire la palla ancora una volta in calcio d'angolo la Chiantigiana dall'ultimo minuto va vicinissima al gol delle 2-1 incredibilmente Cioni sottoporta non riesce a deviare manda la palla sul fondo finisce anche così con il triplice fischio del signor Manuel Marchi della sezione di Siena in Mazzola Valdarbia alla sesta vittoria nelle ultime sette partite vola sempre più in alto a quota 34 punti grazie a tutti